buongiorno a tutti prima di cominciare a cucinare la nuova ricetta vi voglio fare vedere la nostra piccola saletta di inverno siamo un pochino più ridotti con i posti di estate siamo più grandi perché abbiamo un bel bel giardino qua abbiamo un'isposizione dei quadri dei bellissimi quadri c'è un gatto di maria gloria mondini un altro e qua un altro bel quadro però vi voglio fare vedere un quadro speciale fatto da una persona speciale fatto per noi questa settimana ce l'ha portato gianni zoboli gianni grazie grazie di cuore per questo quadro bellissimo e questa settimana ti voglio dedicare un piatto per te come a te piace tantissimo la zuppa classica di pesce voglio preparare la zuppa classica italiana però in vaso cottura questa settimana è per te grazie di cuore per cominciare a preparare questo piatto abbiamo bisogno di un vasetto dopo il pesce un san pietro che dopo viene sfilettato baccalà calamaro gamberetti ecco qua già puliti una bella galenella dopo viene anche questa sfilettata una capesante seppiolini e un gamberone pomodorini alio capperi peperosa un po di olio di oliva e sale a Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti